Via Montevecchio e via Allavolini sono due strade nel cuore della città di Fano. Ultimamente sono state interessate da due cantieri per opere di diversa natura, ma che in pratica hanno tenuto sotto scacco la zona per diverse settimane. Quello che ha fatto però indignare residenti e operatori commerciali di queste due strade e anche qualche esponente politico, attento osservatore di ciò che accade in città, sono le modalità con cui sono stati portati avanti i lavori e la gestione delle autorizzazioni e disposizioni dettate dall'amministrazione comunale, che hanno imposto un'operatività discutibile, soprattutto in questi ultimi giorni in via Montevecchio, alla ditta che sta eseguendo i lavori, soprattutto per come stoccare e smaltire i materiali inerti di risulta, creando forti malumori in chi risiede nella via, ai quali si sono aggiunti poi anche quelli portati dai furbetti che, tanto dato che la roba c'è, e quasi quasi ci lascio anche la mia, e giù di vecchi ombrelloni e immondizia. Il tutto poi ammassato a ridosso delle mura della residenza Vescovile, che certo non hanno dato un'immagine edificante a chi è passato per la via in questi giorni, compreso anche quelli di domenica, per il carnevale. Il Comune dovrebbe essere più presente quando ci sono questi lavori. Io penso che sia il Comune che gli abbia dato il permesso di aver fatto un cantiere open come questo, che io dico la verità la prima volta che lo vedo, ma non solo nei centri storici, ma anche fuori. Se tu vai anche nelle campagne o nell'internet eccetera, non trovi situazioni di questo genere. In queste ore la dita si sta effettuando lo smaltimento, ma i residui del cantiere hanno lastricato il porfiro della strada di una sottile polvere bianca. Insomma, il peggio sul peggio. Oggi voi come potete constatare, da via Lavolini, partendo da via Montevecchio, abbiamo un 60, 70, 80 metri che praticamente sembra una strada disastrata. Io ormai la chiamo la strada della via bianca, perché è piena di polvere e a noi questo qui ci dà un danno notevole perché continuano, quando capitano i clienti, con i piedi impolverati non facciamo altro che pulire. Passano le macchine, alzano la polvere e io dico questo è solo un fatto di buonsenso, perché ci vuole poco a far passare un camion con dell'acqua o quel macchinario che hanno in piazza che puliscono dopo il mercato. Io mi auguro che chi di dovere prenderà posizione su queste cose e un'attenzione in più. Io dico, se qualcuno viene a vedere questa via e se tu gentilmente puoi fare una ripresa di questi dissuosori qui o dalla parte qua di via Montevecchio, è tutta da rida, come dice la FAN.